Benvenuti sul canale di Spectro Maledicto, il minestronaio. Così vi hanno definito uno che fa i minestroni del canale. Non avete capito? Questo è il canale del complottismo, io parlo di tutto. Non vi posso fossilizzare sulla terra piatta, la terra piatta è una cosa, e poi viene tutto il resto, la medicina, le banche. Vi racconto una storiella? Vi racconto una storiella. Un signore che aveva un albergo un giorno, si vede arrivare un altro signore a tutta velocità, il quale gli disse, senta scusi mi serve una camera ma devo per forza vederla. Allorché questo padrone di albergo gli disse, sì ho capito ma io non posso perdere tempo con te. E lui gli rispose, va bene allora ti lascio 200 euro, mi faccio un giro per le stanze e vedo se trovo qualcosa che mi piace. Se trovo qualcosa bene hai già le 200 euro, altrimenti io mi riprendo le 200 euro e me ne vado. Sennò che il commerciante, il padrone di questo albergo così preso alla sprovvista disse, vabbè non c'è problema. Il signore cominciò ad andare su per vedere tutte queste stanze, mentre il proprietario dell'albergo scappò con queste 200 euro verso l'esterno e andò dal macellaio. Gino, Gino guarda ti ricordi quelle 200 euro che ti dovevo dare per il mio ristorante eccetera della carne che ho comprato? Sì sì che guarda ti lascio qua, ecco le 200 euro ho saldato. Allora Gino fa, sì sì tutto a posto, grazie grazie Fra. E Franco se ne va, allora Gino che fa? Prende queste, si toglie il pareo davanti insomma, prende queste 200 euro, corre fuori dalla sua macelleria e va dall'elettricista. Gino gli dice, Francesco ti ricordi quella volta che sei venuto a farmi l'impianto, le ultime 200 euro? E allora Francesco gli dice, sì sì grazie me le portate, prende queste 200 euro Francesco. E lui è Gino, insomma se ne va, Francesco esce subito da casa sua, va da una signora, insomma una meretrice e gli dice, Ti ricordi quella sera che siamo stati insieme? Guarda ecco le 200 euro, non ce l'avevo, te le do adesso. Ah grazie grazie, insomma è tutto a posto, questa meretrice parte, va nell'albergo, nell'albergo di prima e dice, ti ricordi quella sera che sono venuta qui con dei clienti? Eccoti le tue 100 euro e così abbiamo saldato, tutto a posto, sì tutto a posto e se ne va. Nel frattempo quel signore che era entrato per vedere le stanze scende giù e dice, non mi piace niente, questo albergo fa schifo, ridammi le mie 200 euro. Allorché il padrone dell'albergo prende le 200 euro e gli le dà, dice, a rivederci mi dispiace che non abbia, non ha trovato nulla ma va bene così. Che cosa significa questo? Significa che i debiti sono virtuali, non esistono, non esistono dei debiti perché c'è qualcuno, se qualcuno ha dei debiti, c'è qualcuno che ha dei crediti e se io devo dare, se io ho dei debiti a chi li devo dare questi soldi? Ha qualcuno che li deve ricevere e quello che li deve ricevere è a sua volta fra dei debiti che deve dare un altro che li deve ricevere. Per cui questo con 200 euro che gli aveva appoggiato sul tavolino, questo che doveva vedere le camere, ha saldato tutti i suoi debiti e tutti hanno saldato i suoi debiti. Con questo che cosa voglio dire? Due cose. Primo che si potrebbe organizzare una grande azienda che chi ha i debiti o i crediti va in questa azienda e in questa azienda finisce in un database, dice, tu Spectro quanto devi, e io devo prendere 200 euro da Angelo che gli ho fatto causa perché mi ha insultato più volte sul canale e il giudice ha detto che mi deve dare 200 euro e ancora non me le dà. Però devo dare 200 euro a John Stafford che praticamente mi deve far vedere come funziona il giroscopio. Che succede? Che succede? Che Angelo, anziché di... però Angelo giustamente deve dare... cioè Stafford deve dare dei soldi a Angelo, quindi il cerchio si chiude. Angelo deve dare dei soldi a me, io devo dare dei soldi a John, John deve dare dei soldi a Angelo perché? Perché tenere queste cose in piedi a chi? Cioè, dicevano gli antichi romani, a chi conviene sta cosa? Seguiamo i soldi, a chi conviene? Non me lo fate dire, sta scritto qui, sta scritto qui sul titolo del video. Alle banche, no? Alle banche. Allora, si potrebbe fare un'associazione dove praticamente c'è questo software gigantesco, gigantesco, insomma, un normalissimo software, dove tutti coloro che devono prendere o ricevere dei soldi si segnano, che ne so, con codice fiscale o con partita IVA per le aziende. e automaticamente che cosa fa questo software? Questo software chiude il cerchio, tu devi dare questo a questo, questo a questo, questo a questo, li chiama, fa firmare una carta, guarda, tu devi dare da questo a questo a questo, il cerchio si è chiuso, abbiamo spacciato, nessuno avrà più debiti, nessuno ha più crediti, nessuno pagherà più interessi di mora su scoperti, su cose, eccetera, e l'economia potrebbe ripartire, davvero, la scienza, la scienza, no, ma la scienza no, non dice così, la scienza dice, la scienza della finanza, la scienza della finanza dice che noi dobbiamo pagare interessi su interessi su interessi, banche, prestiti, riserva frazionaria, stampiamo soldi, li prestiamo, li rivolgiamo indietro con gli interessi che ancora dobbiamo stampare, tutto a posto, tutto a posto, io sono il complottista, però attenzione questo è tutto inventato, niente è vero, è tutto falso, io sono il complottista pazzo schizofrenico, spectro maledicto, che dice soltanto stupidaggini, e deve andare a studiare, e c'ha questo canale minestronico, dove c'è un minestrone tra terra piatta, banche, lobby farmaceutiche, fra poco parlerò anche delle scie chimiche, chi più ne ha più ne metta, è un po' un casinaro questo spectro maledicto, ne butta proprio a fiumi di stupidaggini, però, però, c'è qualcuno che, qualcuno che tra le righe, tra uno strillo, tra una faccia brutta, e altre cose, riesce a capire quello che veramente vuole passare dall'altra parte del vostro schermo spectro maledicto, questo software potrebbe garantire molte cose, eliminare molti debiti, eliminare molti crediti, per cui, volere è potere, no? No, ma la scienza, la usiamo per il bosone di Higgs, ma non c'è fotta, è una minchia, lo usiamo, la scienza la usiamo, che ti posso dire, per far svolazzare, così, così il cavolerangelo, e la lacca, oppure, la scienza, la utilizziamo per la fisica quantistica, no? Il teletrasporto quantistico, e poi, abbiamo le buche alle strade, abbiamo il signoraggio bancario, abbiamo, che vi devo dire, le scie chimiche, abbiamo le lobby farmaceutiche, ci abbiamo, ma, e poi, il pazzo so io, il pazzo sono io, ragazzi, ragazzi, questo è un canale minestronico, sì, mi hanno definito così, un minestrone, il minestrone è buonissimo, perché c'è tutto, c'è tutto, come in questo canale, e io non censuro mai nessuno, tutti possono dire la loro in qualsiasi modo, certo che se qualcuno si mette a fare casino, uno gli dice, oh, e dai, eh, ok, eh, devo imparare un po' di milanese, perché, c'ho qualche sfumatura, di, di romanesco, eh, di romanesco, qualcuno mi ha anche sottolineato questa cosa, mentre porta il suo autobus, eh, vabbè, eh, lo vedete nei commenti degli altri video, comunque, ecco, per dirvi, che se la scienza fosse usata, nel modo giusto, non nello sparare stronzate televisive, che servono solo a fare audience, se la scienza fosse utilizzata in qualche modo, venisse utilizzata nel modo giusto, io non starei qui, non starei qui, a dire, ingegneri, gli ingegneri, che, che servono soltanto a progettare che cosa? I telefonini? No, gli ingegneri progettano l'obsolescenza programmata, dei telefonini che dopo un anno si devono scassare, per essere ricomprati nuovi, anche se non serve comprarli nuovi, questo servono gli ingegneri, a questo gli, per questo li pagano, le lampadine, le lampadine, lo sapete che hanno fatto un'associazione, per, per una, una specie di assemblea, per dire, queste lampadine durano troppo, facciamole durare di meno, perché sennò che facciamo noi qua? Allora, ritorniamo sempre allo stesso discorso, i soldi, questa società è sbagliata per questo motivo, non andremo mai avanti, vi ho fatto notare che sono 60-70 anni, che non è cambiato quasi niente, le macchine dovevano volare, le macchine non voleranno mai, non interessa a nessuno, se una cosa non porta soldi, non interessa a nessuno, non si farà mai niente, anche se è per il bene comune, se dobbiamo utilizzare energie pulite, che si trovano in natura, e a qualcuno non conviene, non si utilizzeranno mai, la colpa di chi è, anzi, la colpa di che cose? Dei soldi, dell'economia, io non ho mai ragionato, né di destra, né di sinistra, però qua non si tratta di ragionare destra e sinistra, qua si tratta di ragionare per il bene comune, che purtroppo, purtroppo, non è possibile, non è possibile fare il bene comune, perché il bene comune deriva dal fatto che una persona, quando fa una cosa, la deve fare con passione e con intelligenza, non per soldi, qualsiasi cosa che viene fatta per soldi, è fatta male, qui sul canale spesso e volentieri mi dicono, ma tu vuoi avere la notorietà di Tomix e Dino Tinelli per fare soldi, ma quale soldi, ma che me ne frega a me dei soldi, ma io dovrei campare con i soldi di YouTube, ma a parte che non me ne fotte niente, quando un giorno vi vedrete partnership per prendere soldi su YouTube, allora mi potrete dire qualche cosa, ma fino a quel punto, cioè, ragazzi, ma che stiamo sparando proprio a vuoi, poi il complottista sarei io, cioè io sto facendo tutto questo per che cosa? Io sto facendo tutto questo per chiacchierare, c'è qualcuno che mi rincuora, che dice guarda, guarda Spectro, mentre porto il mio autobus, io e i miei passeggeri, ti ascoltiamo con piacere, mi fa piacere, mi fa piacere anche se sono, mi ha definito un turbine in piena, un fiume in piena, non mi ricordo bene adesso l'esatta definizione, sparo roba, butto fuori, vomito, vomito, io vomito, è così, è così, io vomito, roba fuori, perché? Perché non ho talmente tanta dentro, che ne ho piene le tasche, va bene? Io spero soltanto che le persone che guardano l'ISS, le persone che guardano le votazioni, che guardano la televisione, che guardano sta gente per televisione, che fa sti finti spettacoli, anche musicali, che comunque il mio settore, ma una cosa schifosa, una cosa schifosa, mamma mia, che schifo, Spectro Maledicto, alla prossima.